Ed eccoci qua, siamo arrivati al momento di tirare un po' le somme sull'ultima stagione di Destiny 2 la stagione della ricchezza, una delle migliori stagioni dell'anno al pass di Destiny 2 che secondo me merita di essere esaminata e dove sento di dover dare un'opinione sia generale che particolare dei contenuti che Bungie ha preparato per noi So bene che la stagione non è finita ancora, manca ancora un mesetto ma siamo alle prese con gli sgoccioli, manca il solstizio degli eroi che è l'ultimo evento dell'anno, che però sappiamo quanto è più un evento di preparazione per l'arrivo del nuovo anno di gioco a settembre che un vero e proprio evento della stagione della ricchezza in più manca ancora la Solar Week, la settimana solare che potrebbe portare con sé magari qualche altra piccola sfida o sorpresa, ancora non si sa, però la gran parte dei contenuti ormai è uscita e si può esaminare senza problemi la stagione della ricchezza come le altre d'altronde non è stata presentata in pompamania da Bungie fino a pochi giorni prima della sua uscita non sapevamo a cosa andavamo incontro sapevamo che in qualche modo era collegata con Calus, il personaggio misterioso l'imperatore opulento dei Cabal e aspettavamo dunque di far luce su questo personaggio che sappiamo essere invischiato in diversi aspetti della Lord Destiny purtroppo non è stato così, dal punto di vista della storia purissima non c'è stato un grande passo in avanti tutte le attività intorno a Calus e a questa stagione non sono state rivelatrici di niente riguardo a Calus né tantomeno alla sua direzione, ma un continuo di quello che abbiamo visto invece nell'anno 1 quindi un Calus che vuole metterci alla prova, prima con il serraglio e poi con il ride ma in entrambe le attività non ci sono stati grossi passi in avanti riguardo alla storia di Destiny tanto invece è stato fatto riguardo alla lore e proprio grazie al ride e alle nuove esotiche si è capito tanto invece dei perché Calus aveva qualcosa dell'alveare all'interno dell'Eviatano e anche del piccolo inganno di Sabaton fatto appunto a Galra ma mi limito a questo, se volete sapere di più sulla lore di Destiny e la storia di questi personaggi vi consiglio di guardare i video di Lorenzo Divus, trovate il link in descrizione per appunto sapere di più sulla lore del gioco partiamo proprio dal principio però, noi e tutto è partito con il day one della stagione con l'arrivo del nuovo ride, questa volta Bungie ha fatto le cose fatte bene la corsa al ride del day one è sempre stata un po' particolare ed il caso di dire magari anche impari tantissima gente si è chiamata fuori da questi contest nel corso del tempo perché il modo ed il tempo in cui si accedeva al ride era proibitivo per molti il farming compulsivo che c'era da fare per raggiungere un cap di luce decente per partecipare in passato era brutale e questo ha sempre limitato l'accesso e la partecipazione alla corsa al World First appunto a molti in questa stagione invece è stata Bungie a mettere dei paletti con delle regole per questo contest che è stato seguito e ha fatto partecipare in maniera passiva tutta la community che si è riversata su Twitch appunto per seguire questa sfida rinnovo, ne approfitto di nuovo i miei ringraziamenti per tutto il supporto che ci avete dato anche a noi durante questa piccola gara poche ore di preparazione ed il ride aveva dei limiti di potere quindi il tutto era cappato ad un certo livello in modo che tutti si trovavano di fronte allo stesso livello di difficoltà e quindi l'unico scoglio da superare era quello di dover riuscire a capire e sconfiggere le meccaniche del ride in tempo il che ha reso la corsa decisamente più avvincente e meno scontata del solito purtroppo piccolo appunto noi in Europa eravamo leggermente svantaggiati perché appunto giocavamo di notte però ecco questo è quanto una cosa secondo me gestita in maniera impeccabile che ha dato la possibilità a tutti i team anche quelli che magari non sono abituati a fare questo tipo di cose di partecipare e far parte del grande ingranaggio del day one di Destiny che secondo me è una cosa che va vissuta almeno una volta per stringere un legame particolare con i vostri compagni il ride di per sé io lo giudico positivamente è ben congegnato ed è progettato sulla falsa riga di quello di Shakura del passato abbiamo un pattern da seguire all'inizio che si ripete poi durante tutti gli step e che troviamo anche nelle meccaniche del boss con l'aggiunta di altri elementi quindi anche qui c'è una crescita di meccaniche e di difficoltà durante tutto il ride personalmente lo trovo anche migliore rispetto a Shakura sia dal punto di vista della lore quindi della storia che racconta e della presenza di Galran dentro a Leviatano e sia anche dal punto di vista delle ambientazioni ma penso che sia poi anche una questione di gusti personali prima vorrei fare però una premessa come è successo con la stagione del Ramingo quella precedente a questa c'è una cosa entry level da fare che permette lo sblocco delle attività in questo caso una piccola questline che ci porta da una parte all'altra per fare delle piccole missioni e che alla fine ci ricompenserà con equipaggiamento al 690 690 è il punto di partenza del serraglio nella sua modalità normale e che quindi dà l'accesso anche a chi magari è tornato da poco e magari anche ai nuovi giocatori l'attività come tante altre nei suoi ultimi step naturalmente scala verso l'alto e quindi diventa sempre più complessa però quantomeno si può entrare e se si trova un team un po' organizzato si riesce anche a finire però diciamo con il livello di 690 sia una base di partenza interessante per fare tutte le attività del gioco rispetto alla scorsa stagione dunque sono migliorate due cose la prima è nel caso per esempio delle forge o meglio della forgia iniziale il livello non è troppo alto per partecipare nella seconda quella del Ramingo erano state inserite delle taglie che ci permettevano di arrivare ad un livello decente prima di poter fare tutte le attività che però erano decisamente delle taglie un po' fine a se stesse finalmente con questa stagione abbiamo una piccola quest introduttiva che oltre a farci capire alcune cose e a presentarci i personaggi principali di questa season ci permette anche di acquisire equipaggiamento utile quindi è innegabile che per gli entry level i giocatori che tornano e di nuovi giocatori c'è stato un crescendo ed un miglioramento di stagione in stagione veniamo ora al serraglio dunque è un'attività che ha visto la sua evoluzione proprio come quello di cui vi ho appena parlato grazie alle attività che Bungie ha progettato e fatto uscire in precedenza questo denota da parte di Bungie secondo me uno studio accurato e sicuramente la volontà di migliorare le cose ed è parte anche dell'hype che c'è intorno a settembre frutto del lavoro appunto svolto finora per spiegarvi brevemente questa evoluzione partiamo dalle forge un'attività che dura circa 10 minuti con una meccanica semplice tra i giocatori e con il matchmaking l'unica difficoltà è sempre solo stata il livello di luce perché la meccanica è sempre la stessa cioè tirare le cariche nelle forge e alla fine far spawnare il boss punto ricompense ok visto che le potevamo comunque scegliere grazie ai telai e naturalmente c'era una parte random che appunto riguardava i perk la parte non ok è sicuramente stato il modo di sblocco delle forge e la necessità di dover rifare le stesse quest tediose per tutti i personaggi quello è una pagina secondo me nera da cancellare verdetto stagione del ramingo attività da 4 giocatori matchmaking sì difficoltà crescente e meccaniche interessanti che però fino al terzo step sono uguali e le boss fight cambiano purtroppo loot random e questo è il punto negativo di azzardo ed ottenere le armi del verdetto e della stagione del ramingo era veramente complesso anzi è veramente complesso veniamo ad oggi serraglio saliamo a 6 giocatori matchmaking la prima volta che bungee fa un'attività con così tanti giocatori e con il matchmaking quindi una cosa nuova fino ad oggi le uniche attività da 6 sono sempre estate soltanto i ride meccaniche decisamente buone è una modalità fatta a step dove ogni step oltre ad esserci una difficoltà crescente data dalla luce c'è anche una difficoltà data dallo step stesso si arriva infine ad un boss con meccaniche uniche che gira ogni 3 settimane quindi un boss a settimana ed il boss in totale sono 3 ci sono tutte le basi per un'ottima attività ed il loot il loot lo scegliamo noi con addirittura la possibilità di scegliere anche il prodigio dove lo vogliamo grazie appunto al calice di kalus che ci permette tramite delle rune di poter scegliere appunto il loot che vogliamo a fine serraglio il che rende questa attività decisamente appetitosa e remunerativa per due motivi il primo sono le armi che ci sono al suo interno sono ottime sia a livello di statistiche che sia anche per bellezza diciamo così per estetica vedi l'amato o vedi il falconiere secondo punto fino a poco tempo fa c'è stato anche un piccolo glitch che permetteva ai giocatori di farmare la cassa finale più e più volte e qui veniamo ad un piccolo problema forse l'unico neo della stagione nato appunto da un glitch il glitch della cassa dava una profondità all'attività non indifferente e sicuramente dava un motivo in più per farmare un'attività che comunque richiede un po' di tempo e non è immediata quindi diciamo non è come fare una missione e ricevere un solo drop indietro è un'attività che ha bisogno dei suoi buoni 15-20 minuti se si è veloci anche di più se si trovano delle difficoltà il glitch per quanto brutto tra virgolette fosse dava la sensazione di essere stato messo lì apposta per farci godere del nuovo loot e sappiamo quanto sia pagante fare un'attività e ricevere tanto loot in cambio la maggior parte magari era da buttare perché nonostante si potesse scegliere sia l'arma che il prodigio l'arma o l'armatura che si trovava aveva perk che non erano buoni però era comunque molto interessante ad oggi questo piccolo glitch è stato sistemato e alla fine della fiera si può prendere un solo drop dalla cassa che purtroppo ha visto un allontanamento di massa da questa attività fin da quando è stato annunciato questo fix la preoccupazione era tanta e si è cercato di far ragionare Bungie nel trovare una via di mezzo tra il glitch ed il normale loot e quindi dare la possibilità di aprire magari più volte la cassa o magari in base al punteggio che si otteneva avere più casse alla fine ad oggi purtroppo non conviene più farmare in termini di tempo questa attività perché si ottiene poco in tanto tempo speso e quindi torniamo ad un discorso vecchio che abbiamo fatto anche poco tempo fa su The Division 2 che in giochi del genere il loot deve essere sempre proporzionato o anche sbilanciato verso il loot in base al tempo speso in un'attività staremo a vedere se Bungie riuscirà a sistemare questo problema quanto prima che sta allontanando i giocatori da questa attività sicuramente ben riuscita riprendiamo dunque la timeline e per tre settimane quindi abbiamo rifatto il serraglio più e più volte per farmare in primo luogo grazie al sistema del calice che è sicuramente un sistema riuscito e al farming di rune selvaggio che serviva appunto per scegliere che tipo di drop si vuole dalla cassa finale ed ogni settimana abbiamo affrontato un boss diverso tutto questo è stato interrotto dalla quest del verità il lanciarazzi esotico di ritorno da Destiny 1 una quest che è stata relativamente facile e che ci ha fatto mettere le mani su un'arma che ad oggi purtroppo è poco utilizzata trova spazio solo in crogiolo purtroppo e anche lì è un po' zoppica a uscire fuori dal coro la quest di per sé è stata abbastanza semplice e riprende un po' il sistema classico delle quest esotiche quindi niente di nuovo diciamo che è al limite della sufficienza secondo me dopo la terza settimana del serraglio siamo arrivati alla modalità eroica del serraglio dove tutti ci aspettavamo qualcosa di più ma ci siamo trovati di fronte alla stessa identica modalità ma solo più difficile in termini di livello di potere la cosa interessante è che quantomeno ci sono dei trionfi associati ad essa che sono complessi da fare e che danno un minimo di longevità come per esempio fare i boss finali senza morire o fare per esempio il serraglio eroico in tre giocatori però in linea di massima sarebbe stato interessante vedere una modalità eroica magari con meccaniche diverse o quantomeno modificate rispetto a quelle normali un po' come è successo nel ride di Kalus dove la sua versione eroica cambia di poco il pattern degli encounters arriviamo dunque alla quest dell'Umina un'arma nuova nell'universo di Destiny che ricalca anche qui il pattern di una classica quest esotica però dalla sua all'approccio diverso dell'arma che per la prima volta ha un ruolo da supporto un qualcosa che non si era mai visto all'interno di questo gioco e che fa capire la volontà di Bungie di portare Destiny 2 sul livello o quantomeno di contaminare il gioco con elementi di RPG più classici il tutto arriverà a maturazione a settembre dove con Shadowkeep vedremo anche l'arrivo di più statistiche sulle armature e di spiccati elementi RPG ad oggi l'unico dungeon o segreto chiamatolo come volete è quello del malvagio karma che ci fa entrare finalmente nel piano ascendente all'interno dell'Eviatano per recuperare ancora una volta un'arma dell'universo di Destiny andata persa dopo la guerra rossa la missione è decisamente accessibile a tutti a parte la preparazione che necessita di depositare 18 tributi in questa sala creata apposta per noi da Kalus ma la missione come dicevamo è relativamente semplice bassa di luce senza meccaniche e quanto pare senza segreti questo fa pensare che probabilmente Bungie ha in serbo qualcos'altro per noi visto che la stagione come vi dicevo non è finita magari una versione eroica di questa missione o magari proprio un altro dungeon che potrebbe nascondere altri segreti chissà Bungie con i vari sussurri e ora zero ci ha abituato troppo bene e quindi ci aspettiamo qualcosa di interessante ancora come vi dicevo ad oggi siamo nel mezzo dei momenti di trionfo e tra poco arriverà anche l'ultimo evento che concluderà il secondo anno di Destiny 2 lo stesso evento che c'è stato l'anno scorso che ci ha fatto ripercorrere le missioni della campagna e che questa volta sarà arricchito dalla campagna di Forsaken che sicuramente è una delle più riuscite su Destiny io personalmente mi aspetto anche un piccolo sguardo alle nuove armature come c'è stato anche prima di Forsaken dove ci avevano fatto provare le nuove armi ed il nuovo sistema una settimana prima dell'arrivo del nuovo anno immagino che possa succedere lo stesso anche quest'anno con le armature per concludere due parole io giudico positiva questa stagione la migliore ad oggi secondo me di tutto l'anno al pass una stagione che ha fatto tornare la voglia di giocare a Destiny un po' a tutti i giocatori sia a quelli vecchi che l'avevano abbandonato e sia ai nuovi grazie anche alla sua accessibilità e soprattutto agli annunci di settembre dove presumiamo ci sia una buona affluenza soprattutto grazie alla versione gratis di Destiny 2 New Light ora però è il vostro turno io spero di aver fatto una disamina più completa possibile di questa stagione fino a questo momento fatemi sapere nei commenti qui sotto voi cosa ne pensate di questa season fino ad oggi se siete o meno d'accordo con me sui punti che abbiamo toccato io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati su Destiny 2 da qui a settembre quando arriverà Shadowkeep di seguirmi su Twitch se volete parlare e discutere con me del gioco tutti i giorni in diretta dalle 15.30 in poi lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciaoone ciao 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 ciao